La gioia e la speranza del Natale possano raggiungere tutti i popoli, specialmente quelli feriti dalla guerra e da aspri conflitti. È l'auspicio che Papa Francesco ha formulato dalla loggia centrale della Basilica Vaticana durante il tradizionale messaggio di Natale, Urbi e Torbi. Come in un abbraccio il pensiero del Pontefice Accinto, gli uomini e le donne della martoriata Siria, dove è tempo che le armi tacciano definitivamente e la comunità internazionale si adoperi attivamente perché si raggiunga una soluzione negoziale. Nell'amata Terra Santa, israeliani e palestinesi sono stati invitati a scrivere una nuova pagina della storia in cui odio e vendetta cedano il posto alla volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione e armonia. Unità e concordia sono state invocate per l'Iraq, la Libia e lo Yemen, dove le popolazioni patiscono la guerra e deferati azioni terroristiche. Pace anche in Africa, specialmente in Nigeria, Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, così come per quanti hanno perso una persona cara a causa di atti di terrorismo, per i profughi, i migranti e i rifugiati, e pace ai popoli che soffrono per le ambizioni economiche di pochi e l'avida ingordigia del Dio denaro che porta alla schiavitù. Il potere di questo bambino, figlio di Dio e di Maria, non è il potere di questo mondo, basato sulla forza e sulla ricchezza. È il potere dell'amore. È il potere che ha creato il cielo e la terra, che dà vita ad ogni creatura, ai minerali, alle piante, agli animali. È la forza che attrae l'uomo e la donna e fa di loro una sola carne, una sola esistenza. È il potere che rigenera la vita, che perdona le colpe, riconcilia i nemici, trasforma il male in bene. È il potere di Dio. Questo potere dell'amore ha portato Gesù Cristo a spogliarsi della sua gloria e a farsi uomo, e lo condurrà a dare la vita sulla croce e a risorgere dai morti. È il potere del servizio che instaura nel mondo il regno di Dio, regno di giustizia e di pace.